Signore Gesù Cristo, buone, e gusterete cibi succulenti. Signore Gesù Cristo, buone, e gusterete. O non si sentono ad agio o hanno fame. Se hanno fame, allattateli. Senza paura. Datteli da mangiare. Perché anche questo è un linguaggio di amore. E' uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza... Ma noi abbiamo bisogno dello... Volete dunque che Federico sia battessato nella fede della Chiesa, che tutti insieme abbiamo professato? Sì, lo vogliamo. Federico, io te battesso nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E' uscita dalla mia bocca. Con la sua pace, Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. E' uscita dalla mia bocca. Grazie a tutti.